Un incontro veramente pregregiato per il semplice fatto che in termini di interesse per il sociale nel paulano italiano non ci sono altre esperienze così importanti come questa oggi. Il loro lavoro è un lavoro in pastore prima di essere grafici interessati, socialmente interessati. I responsabili sono persone socialmente responsabili interessate, sono non solo designer ma sono anche insegnanti, sono sempre stati anche politicamente attivi proprio nella loro sfera personale e quindi dovete sapere che questo è veramente un momento importante, privilegiato. Social Design, sì, sapete, è intanto un progetto online, è un progetto che giornalmente tratta argomenti sociali legati alla grafica e alla comunicazione e non solo alla cultura in generale ed è possibile, sono due anni che questo progetto si rinnova giornalmente, tre anni, scusate, ed è possibile proprio per la passione di questi due uomini che giornalmente mettono la loro passione proprio a nostro vantaggio con la raccolta, l'editing e la selezione di queste informazioni, immagini che potete vedere su questo sito. Questo periodo è anche un periodo molto particolare perché in questi giorni, in questi due settimane è uscito il libro Social Design Scene, è un volume, un bel tomo ricco di storie e immagini che raccoglie il mail o tutto, una selezione di tutte le notizie, gli articoli, gli argomenti che loro hanno trattato e ho parlato anche troppo e passo la parola a Andrea Gianni, grazie. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, come diceva Omar, cercheremo di raccontarvi brevemente quella che è l'esperienza di Social Design Scene che è fondamentalmente un blog quotidiano curato da me, Andrea e Mauro Pulpico per il conto dell'AIA perché è l'associazione dei grafici italiani. È un'esperienza soprattutto tesa alla creazione di uno scambio di informazioni quindi anche di una comunità tra tutte le persone che si occupano di comunicazione, in particolare di quello che può essere la responsabilità sociale del designer. E anche per questo cercheremo di essere abbastanza breve in maniera tale quando lasciare un po' di spazio soprattutto a eventuali vostre domande ci sarebbe ovviamente molto piacere perché diciamo che nella intera relazione tra chi scrive e i contributi delle persone che leggono e contribuiscono a creare insieme dei contenuti del nostro blog appunto che lo spirito se realizza. Vorrei appunto partire un po' da la dichiarazione diciamo che apre anche il nostro volume che ricordava appunto Omar che è uscito da qualche settimana che è una frase appunto di Isvalo Carovino che cita una sezzina del portatore di Dante e che dice appunto la fantasia è un posto dove ci trovi dentro. E questa è una frase che abbiamo ritenuto particolarmente indicativa e descrittiva di quello che è la creatività ma anche e soprattutto di quello che è il rapporto che lega la creatività e le idee con tutto il resto del mondo. E questo è un aspetto molto importante perché siamo convinti, abbiamo iniziato questo esperimento di social designing, siamo convinti, dicevo, che per parlare di comunicazione visiva e di grafica è necessario parlare di tutto il resto del mondo. Questo ci rende bene l'idea del fatto che la fantasia e quindi anche la creatività che dobbiamo applicare nella nostra professione non è un qualcosa che può essere scientificamente organizzato, perlomeno non solo. Diciamo che è necessario coltivare questa creatività con idee che sono anche esterne al mondo stesso della comunicazione o della grafica. È necessario farci piovere continuamente nuove informazioni, dubbi soprattutto e quanto di più lato possibile che riguarda un'interpretazione anche del mondo. Progettare graficamente significa bene o male avere una visione della realtà. Per avere una visione della realtà è necessario occuparsi di politica, nel senso etimologico del termine, nel senso di avere un interesse verso quello che è la città e lo Stato. Quindi questo è un po' lo spirito con cui ci siamo mossi. E spesso è una cosa che ci dobbiamo spesso a dover spiegare. Perché vi occupate anche di politica? Perché la politica è un aspetto molto importante dell'interpretazione della realtà. Molti pensano che nella grafica ci si possa interessare sicuramente di aspetti squisitamente tecnici, ma non è così. E adesso facciamo un brevissimo escursus, diciamo, di piccole storie, perché quello che facciamo con il social design in realtà è quello di raccontare ogni giorno con una storia, qualche volta più approfondita, qualche volta meno, un breve percorso di storie collegate che possono essere di spunto a molte riflessioni. Diciamo appunto della politica che è un aspetto sempre presente, o perlomeno molto presente anche in tutto quello che riguarda la comunicazione. Per esempio, c'è di più neutro di una lettera dell'alfabeto. In questo caso, quello che vedete nella prima riga sono tre lettere. Possiamo dare un'avvertenza generale all'inizio così poi la sapete già. Se avete qualche curiosità, volete sapere qualcosa, qualcosa che vedete che volete chiedere, perché è qualcosa che vi riguarda, per favore interrompeteci. Perché altrimenti succede inevitabilmente che noi parleremo di quello che interessa a noi, di quello che è lo scopo della cosa che stiamo facendo vedere. Ma magari il vostro interesse su queste sei lettere è un altro rispetto a quello che vi raccontiamo. Allora, magari non lo sappiamo, ma non lo riteniamo importante da dirvi, quindi se non lo ritenete importante, voi per favore interrompeteci e chiedetecelo immediatamente, ma senza avere questo rapporto freddo tra cattedra e aula, perché altrimenti lo scambio non funziona. Il blog è una cosa che funziona in rete, ma anche nella realtà, se c'è uno scambio davvero, perché altrimenti noi chiacchieriamo tre ore, saremmo molto contenti di aver chiacchierato tre ore, ma non sappiamo se qualcuno di voi ha capito qualcosa o si è interessato a qualcosa. Per cui, l'avventenza è fatta di buono, davvero, se avete qualcosa chiedetecelo subito. Alzate la mano con il microfono. Alzate la mano con il microfono. Alzate la mano con il microfono, se la potete amare così, o la conferenza o come diavolo lo mettiamo. Poi sarà difficile un po' per il primo, ma insomma con un po' di coraggio, dopo la prima deluzione. All'ultima conferenza mi ha fatto tre domande, quindi non è vero. No, ma c'è questo aspetto che è un aspetto sacrale. Chi parla, parla e chi ascolta sta zitto e ascolta, ma non è così, non funziona in questo modo, perché ovviamente voi imparate qualcosa, ma ne impariamo qualcosa anche noi, cioè perché sappiamo anche come calibrare, la prossima volta che parleremo, perché se qualcuno ci chiede una cosa per noi del tutto inaspettata, significa che non abbiamo saputo centrare degli interessi precisi e ce ne sono altri che abbiamo trascurato. Quindi è anche un servizio reciproco, non è solamente un'informazione per voi, è anche un modo di lavoro che noi poi usiamo. Non l'abbiamo detto. La dichiarazione è stata fatta. Allora, stavamo parlando a causa della neutralità delle lettere dell'alfabeto. Quello che vedete nella prima riga sono tre lettere dell'alfabeto civillico, che nell'estate del 1917 furono dichiarate contro rivoluzionari. Si trattava di tre lettere che effettivamente non avevano più un grande valore per la scrittura perché avevano gli stessi valori fonetici delle lettere rispettivamente I, E e F e rappresentava come dire un punto di discriminazione fra letterati e non letterati. Quindi, diciamo, nello sforzo rivoluzionario della rivoluzione rivoluzionaria ci fu, nonostante appunto la guerra civile in corso, anche un preciso interesse nel cercare di eliminare quelli che vengono considerate lettere ormai molto rivoluzionari. Ovviamente la cosa non fu facile perché, diciamo, sia l'Accademia delle Scienze e sia la Chiesa Ortodossa continuarono a utilizzarle, nonostante appunto la propizione, per alcuni anni, finché appunto nel 1924 furono rimosse forzatamente i caratteri di Piondo da tutte le tipografie dell'Unione Sovietica, proprio perché venisse completamente interrotto quello che loro utilizzano. Ovviamente con la caduta cuore dell'Unione Sovietica è tornata adesso di moda in Russia utilizzare, come vediamo un po' ai vecchi tempi passati, queste lettere che adesso infatti fanno parte di tutti i font digitali civici. E l'utilizzo, appunto, o meglio, l'interpretazione politica di una determinata lettera non è solo legata a momenti rivoluzionari come quelli, appunto, sovietici. La seconda riga, le tre lettere, appunto, Q, Q, Q e X, sono tre lettere che soltanto due mesi fa hanno portato alla condanna di vecchie persone per averle utilizzate, dopo questo, in Turchia. Perché, come probabilmente sapete, in Turchia hanno utilizzato un alfabeto che è un alfabeto di derivazione latina, questo è fin dagli anni venti in cui fu abbandonato l'alfabeto arco, però che per motivi fonetici, in senso che in turco non esistono la pronuncia di queste tre lettere, non fanno parte dell'alfabeto turco. E chi è che usa queste tre lettere? Le usano i kurdi, che invece hanno l'alfabeto latino con questi tre suoni e, ovviamente, per motivazioni estremamente politiche che riguardano, appunto, lo scontro etnico in corso in Turchia da ormai trent'anni fra kurdi e turchi, la propizione degli anni venti di queste tre lettere continua ad essere applicata, ovviamente, all'escapito, diciamo, della comunità kurda che non voleva utilizzare. Questo è importante, come dire, sapere queste piccole aneddoti, semplicemente perché la Turchia è stata una delle nazioni che deve far parte anche della comunità europea tra qualche anno, ovviamente. Quindi, anche l'utilizzo di determinate lettere può avere talvolta delle conseguenze quanto meno aspettate normalmente. E non è stato, ovviamente, solo un problema di lettere. Qualche volta sono stati tutti gli alfabeti ad essere aboliti per motivi politici. Queste lettere che vedete sono le lettere dell'alfabeto Cerobi, cioè della tribù indiana di Cerobi. È un alfabeto sillabico che fu inventato all'inizio dell'Ottocento da un indiano che si chiama Secuola, quello che vi ho già figurato, e che… Un indiano americano. Un indiano gallerossa. Una figo abbastanza turbante. No, perché la tribù dei Cerobi era una lingua molto integrata, aveva una cultura molto profonda, aveva un sistema di rappresentanza anche elettivo e soprattutto, appunto, proprio per il tipo di cultura che era molto integrata anche con quella del… Erano degli elegantoni anche. Quel carattere mi sembra un bodone. Esatto. Esisteva un reggimento anche dei Cerobi, in cui aveva appunto militato anche Secuola e proprio durante, diciamo, le operazioni militari siamo accorti che era un grosso svantaggio quello di non avere un tipo di scrittura che potesse rappresentare la loro cultura. Secuola fu… fu la persona che si mise in testa di realizzare un sistema alfabetico che permettesse appunto la scrittura della lingua Cerobi. E ci riuscì tanto bene che in pochissimi anni, quindi da 1809 al 1815, non solo inventò l'alfabeto, ma si diffuse talmente tanto che quasi tutti i Cerobi impararono e portò alla pubblicazione del primo quotidiano in lingua Cerobi, il primo quotidiano dei nativi americani mai stampato. che vedete appunto, qui dal presentato, non è un dato, con la realizzazione e la fusione dei caratteri più o meno necessari per poter restampare il quotidiano. ovviamente la storia non finisce bene, nel senso che nonostante appunto questa forte integrazione le mire espansionistiche dei bianchi sulle terre dei Cerobi portarono a sempre maggiore allontanamento da delle terre fertile originali e fino all'imposizione della sottomissione dell'intero popolo Cerobi sotto le varicioni militari che li trasportò nelle loro deserti, dove sono tuttora residenti nelle loro deserti. poi si stanno passando attraverso anche, come prima cosa, la distruzione della tipografia della capitale dei Cerobi e la cosa originale è il fatto che negli anni Sessanta fu mandata una spedizione archeologica a New Etiota, che era appunto la capitale, che riuscì a ritrovare anche da tutti i pezzi di piondo che erano parte della fornitura originale della tipografia. avevano delle case di legno, le donne si vestivano un abbigliamento normale con donne e quant'altro e tra l'altro, diciamo, un'altra cosa curiosa è il fatto che di fronte alle continue mire dei governatori e dello Stato americano, i Cerobi non si ribellarono, fecero appello a tutte le corte di giudizio, avevano anche ragione, cioè mi sento riuscendo ad ottenere ragione in tutte le corte di giudizio come font digitali. La fine della storia dell'alfabeto di Sequoia è intorno al 1830. però la fine degli indiani purtroppo è praticamente anticipata di qualche decennio, non tanto dalla tipografia ma in questo caso dalla topografia. Questo che vedete è lo schema realizzato da Thomas Jefferson nel 1785, prima di diventare Presidente degli Stati Uniti, che rappresenta una cosa molto semplice. La suddivisione di tutto il territorio americano, ad ovest della Pennsylvania, suddivisa in settori che facevano capo alle varie contee. Era un progetto, si è trattato di un progetto ambiciosissimo, nessuno sapeva esattamente cosa c'era nei territori del West, erano ancora in quel periodo per l'altra parte assolutamente inesplorati. Però con questo progetto, qui si è anche la responsabilità del progettale, fu distesa una griglia virtuale su tutto il territorio, indipendentemente da quello che ci sarebbe trovato. Era una griglia che non permetteva semplicemente una suddivisione che veniva portata avanti da i topografi con picchetti e catene che dovevano essere tirate per poter ottenere la giusta misura di ciascuno di questi settori. Ma era una suddivisione che prevedeva di già che cosa sarebbe sorto in questi riguardi. Per esempio nel riguardo 16, vicino al centro, era il settore che era dedicato alla scuola e all'università, mentre altri 4 di questi settori erano riservati per le attività del governo federale. Quindi, dipendentemente dal fatto che uno si trovasse nel mezzo di una foresta piuttosto che sul fondo di un canyon, avrebbe saputo di già che cosa sarebbe sorto in quel punto. Ovviamente quello che mancava era uno spazio per gli indiani. Quindi in questo progetto la fine degli indiani era già prevista. ci volevano 140 anni perché venisse effettuata la suddivisione secondo il principio appunto dell'end ordinance del 1785, però già nel progetto originario era già prevista la suddivisione di tutti gli stati uniti. e questo è un aspetto importante perché anche nella rappresentazione cartografica c'è una valenza politica. Questo per esempio sarebbe l'effettiva rappresentazione degli stati uniti se venissero tolte le aree che sono sottoposte come riserve indiane a un'amministrazione autonoma. Ecco qui per esempio vediamo un risultato di questa suddivisione che abbiamo visto perfettamente quadrata del territorio. Questi sono i risultati, questa cantina vedete, i risultati elettorali dell'ultima elezione presidenziale americana. In rosso sono le contee in cui la maggioranza è stata per Bush e in blu quelle per... che ero già dimenticato. Anche perché brumaticamente per esempio negli Stati Uniti sono invertiti i colori rispetto a noi, nel senso i conservatori repubblicani hanno come colore istituzionale il rosso, i democratici hanno il blu. Quindi l'interpretazione di questa cantina per esempio dà un senso immediato di stravittoria da parte del Presidente Bush. Però può essere rappresentata anche in maniera diversa, gli stessi identici risultati elettorali. Questo per esempio è la stessa carta con gli stessi risultati affidando anziché i semplici due colori una gradazione dei due colori a seconda della percentuale che ciascun partito ha ottenuto in quella referenata europea. Vedete che in questa immagine rispetto alla precedente c'è una visione un po' più complessa. Aumentiamo la complessità dell'interpretazione visiva di quello che vediamo. Ma se non fa ancora un ulteriore passo questa è la stessa carta con le gradazioni a seconda delle percentuali dei due partiti in cui alla dimensione della montea viene dato un valore in base alla popolazione quindi al valore effettivo. come vedete il cambiamento è molto radicale. Quindi l'utilizzo... Per questo anche per esempio ci sono stati molti dibattiti negli Stati Uniti subito e dopo le versioni anche all'interno dell'AICA che è l'associazione appunto dei grafici americani. riflessioni guardate sul fatto che il grafico che realizza anche questo tipo di immagini ha un enorme potere, ha un'arma a sua disposizione enorme. E non è un caso infatti che questo dibattito sia stato originato proprio negli Stati Uniti. Questa per esempio è la scheda elettorale che permise a Bush di vincere in alcune contene della Florida ottenendo poi, durante il primo mandato, le prime elezioni ottenendo appunto la prima investitura come Presidente. Elezioni molto contestate in cui appunto si vede bene come un tipo di design particolare della scheda abbia influito pesantemente sull'elezione della persona più potente del mondo. Come vedete, per votare il secondo candidato, cioè al Gore, quello dei Democratici, era necessario votare, forare il terzo futuro, anziché il secondo. E questo ha comportato il fatto che il candidato, il primo candidato a destra, Pat Buchanan, avesse effettivamente un enorme numero di voti, molto più alto di tutto il resto degli Stati Uniti, a causa di questo evidente grave errore nella progettazione della scheda elettorale. Poi è stato fatto anche il nome della povera ragazza che aveva disegnato questa scheda, è stata licenziata l'anno scorso. Però, diciamo, è un tipo di riflessione che è molto importante. Anche perché, appunto, grazie a questo tipo di votazione, il petto è stato eletto alla presidenza del paese più importante del mondo. E, infatti, non a caso, l'Aiga, l'Associazione dei Grafici Americani, ha iniziato fin da allora una serie di attività che va sotto il nome di Design for Democracy, per, come dire, studiare e portare avanti i progetti per una accessibilità democratica alle elezioni. Accessibilità democratica significa avere la possibilità, appunto, di disegnare ovviamente e di far realizzare delle schede che non inducano l'errore dell'elettore, ma, ugualmente, anche dare tutto il tipo di informazioni necessarie per le gabini elettorali, per i manifesti elettorali che riportano i candidati e quant'altro. E, all'ultima lezione, anche questa serie di manifesti che qui vedete, che è andata appunto sotto lo slogan Good Design makes a choice is clear, cioè, vuol dire, il buon design fa scegliere meglio, che è una, diciamo, dichiarazione di intenti molto importante e significativa. Da tenere presente, anche noi, adesso c'è questo dibattito sui dibattiti televisivi elettorali sulla parte 11 e quant'altro, sono tutti aspetti su cui un designer è chiamato a dare una propria interpretazione che può essere appunto in senso di apertura democratica oppure al suo contrario. Quindi è importante riflettere su quello che è la responsabilità della propria attività. E qui veniamo, per esempio, a una nuova forma di comunicazione e di partecipazione politica, che è design fino a un certo punto. Queste sono immagini tratte dal sito Sorry Everybody, che è stato aperto immediatamente dopo, appunto, le ultime elezioni americane, in cui, prima del gioco, alcuni studenti americani si fotografavano mettendo proprio la foto in rete con un cartello in cui si sposavano nei confronti del resto del mondo per non essere riusciti ad impedire le elezioni di Bush. E' stato un successo talmente enorme che in pochi giorni sono arrivate centinaia e migliaia di immagini a questo sito di persone che mettevano la propria faccia e quindi, come dire, una dichiarazione proprio di partecipazione con la propria faccia a questo sito. E che cos'è questo? E' la derivazione di quello che è anche una nuova forma di partecipazione alla politica. Adesso non esistono più i comizi. Una volta il problema era riempire le piazze per i comizi. Adesso non esiste più questa problematica. Adesso le persone vengono coinvolte sempre più spesso con iniziative mirate, limitate, questo è il bene del male, e che vengono appunto messe insieme con sistemi della maggior parte legati alla rete. Gli Stati Uniti è sempre diventata la forma più comune di partecipazione e di organizzazione di massa quelle iniziative politiche. Tanto che appunto questo aspetto delle immagini di mettere la faccia e quindi di dare la propria rappresentazione è stato utilizzato, a parte dell'esperienza di Sori e dei privati, anche da altre iniziative. Questa che vedete, per esempio, è l'iniziativa di Amnesty International per mettere a bando il commercio internazionale delle armi. E' un'iniziativa partita nella nostra proporzione che è 600 mila volti in questo momento. Quindi siamo con una storia di 650 mila. Quindi con questo incremento oggi saranno grossomodo 700 mila. Comunque si può vedere in rete, però non si può vedere in rete, e c'è l'aggiornamento in tempo reale di quante fotografie hanno in rete con quello che noi dobbiamo fare. E questo, diciamo, è una partecipazione internazionale. Questa è veramente una globalizzazione della comunicazione politica. E questo è un po' anche il motivo per cui abbiamo utilizzato la rete per creare il nostro blog per i social resensi. Un tipo di utilizzo appunto di rete che ha aspetti positivi e aspetti negativi. Per esempio, una delle critiche che vengono più spesso portate avanti sul discorso della rete, ma chi me lo dice che è vero quello che trovo in rete? Perché effettivamente circolano tantissime false notizie, spam, informazioni fraudolente e quant'altro. E questo, diciamo, è un serio problema anche per l'enorme esplosione, diciamo, di quello che è il mondo, il panorama del blog, o blog osfera, come viene detto. Non ti tratta semplicemente che quando abbiamo iniziato appunto nel 2003 i blog nel mondo erano stimati in circa 500 mila. Mese scorso, all'ultimo censimento, ne risultano 20 milioni, con una tendenza a raddoppio ogni 5 mesi, che vorrebbe dire prima dell'estate saranno oltre 40 milioni di blog. Quindi è evidente che la quantità di informazioni che si trovano in rete sta aumentando esponenzialmente. E esponenzialmente aumenta anche il rischio di trovarsi su, ad avere a che fare con una falsa informazione. Vediamo, questo è un esempio di bufala trovata in rete, e l'altra è molto bella perché è circolata in una mail che raccontava come un fantomatico diplomatico norvegese avesse presentato questa campagna per l'Oscar del marketing politico. Ora è evidente che non esiste nessun Oscar del marketing politico, però spesso la realtà è un po' più complessa se dice falso e vero. Infatti questa qui è una vera campagna, esiste realmente. Quello che è falso è solo come è stata presentata. Non so se vedete, se riuscite a leggere, ma è una campagna fatta da una rivista portoghese che utilizza una serie di pantiere con una ritascaria che, diciamo, fa riflettere su quelli che sono alcuni aspetti particolari che potete vedere dall'area europea, su il blu abbiamo il consumo del petrolio e il giallo il prodotto del petrolio. questa della cinese, per esempio, il rosso sono i minori di 14 anni che lavorano e il giallo ci sono i minori di 14 anni che studiano. Si tratta di una bella campagna che è stata presentata in rete con un messaggio completamente falso. Però, scusate, il messaggio completamente falso in questo caso non è una bufala, non è qualcosa che vuole truffare. è semplicemente, se noi lo ricordiamo da altri ambiti narrativi a una rivista o a quello che vogliamo, è semplicemente un espediente per presentare il problema. Vale a dire, è equiparabile a un racconto, a un racconto di fantascienza per essere semplici, cioè qualche cosa che parte da un elemento su cui vogliamo riflettere però lo svolge in un modo che non è semplicemente la descrizione del problema. Noi sappiamo che esiste questo problema in Cina, sappiamo che questo c'è, ma se noi lo rinunciamo soltanto scriviamo un pistolottino di cinque rigi, anche un po' da rimoso. In questo modo diventa un oggetto molto forte, che ci salta addosso, che ci fa riflettere però non lavorando su una retorica di stampo moralistico. questo in qualche modo è una campagna fortemente creativa e fortemente responsabilizzata. Evidentemente riguarda anche la nostra possibilità e capacità di giudizio capire che questa campagna non è reale ma ha elementi reali e quindi questo significa che noi dobbiamo riuscire nel momento che elaboriamo delle notizie anche a capire di che cosa stiamo parlando. Questo non è il coccodrillo nella fogna di New York, cioè la bufala e la leggenda metropolitana. Questo è semplicemente l'articolo di una rivista che un creativo e un copywriter hanno elaborato per dirci un problema reale. Dopodiché quando è passata nessuno ha saputo più questo e ce la siamo vista semplicemente tolta dal suo contesto. Quindi ci sarà stato sicuramente anche qualcuno che pensa che un Oscar del marketing politico o forse un Nobel. Insomma, diciamo che un premio prestigioso esista davvero e sarebbe votato. Sì, questo è possibile, però è un rischio, devo dire, del tutto da correre in una cosa del genere. Anche perché l'aspetto da tenere presente non è che nel mondo reale, chiamiamo così, le false informazioni non esistano. Questa, per esempio, è la curiosa prima pagina del manifesto per rimanere in tema con quello che abbiamo visto prima al domani dell'elezione di Bush. Questo è il manifesto che doveva aprire, chiude notoriamente prima la stampa del giornale. il manifesto è la relazione che ha preso per buone le prime pre-proiezioni prima dell'apertura dello sfortunio. Danno per buono le elezioni di Kerry anziché quella di Bush. Per cui quello che vedete a sinistra è la prima pagina del manifesto che è uscita nel giorno in cui Bush è stato eletto. poi ovviamente è stata fatta una correzione ed è uscita poi la notizia del dato. Però il manifesto qui ha preso un'emerita cantonata che tra l'altro è riccamente corredata di commenti e vari testi che ha supporto appunto della vittoria di Kerry. Anche se appunto il manifesto, diciamo, oltre a fare una figuraccia comunque non ha danneggiato più di tanto. Altri tipi di false informazioni possono essere queste che vedete. Queste sono alcune delle slide presentate al Consiglio dell'ONU per dimostrare l'esistenza delle armi nascoste che ci troviamo sempre. La presentazione di questo tipo di informazioni ha comportato delle conseguenze diciamo quelli più gravi di quelle del manifesto. E in rete è possibile appunto trovare tutto. Questo che vi raccontano adesso è una piccola storia che è divertente perché, come dire, l'abbiamo potuta seguire fin dall'inizio perché è stata una notizia che abbiamo trovato noi. Cioè due ragazzi che lavorano nel mio studio, visto che noi per Social Design Digi occupiamo molto di comunicazione politica, archiviamo e scarichiamo molti dei manifesti che abbiamo fatti dai vari partiti per l'Università. Per cui questi due ragazzi, scaricando alcuni PDF e scancati dal sito di Forza Italia, si sono accorti che all'interno della finestra appunto delle informazioni, se uno va a vedere il creatore del file PDF con cui è stato fatto, venne fuori che è stato realizzato un quattro spec-passport, lezione 4.11 molto vecchia, con una cappa fra parentesi. Ora, tutti quelli che hanno un minimo di conoscenze e di software sanno che il cappa fra parentesi sta perclaccato. che è un programma forzato, illecitamente duplicato quindi, e che è fondamentalmente illegale e che ci sembrava una notizia curiosa in particolar modo non tanto perché vogliamo fare legalisti, ma in quanto dopo Forza Italia il partito per tutti altri si è impegnato in Parlamento per far passare una legge in cui la copia legale dei file MP3 piuttosto che la pubblicazione dei cd diventi leato penal e che è esattato così con la legge urbana. Allora, abbiamo dato questa notizia che ci sembrava un c'era particolarmente curiosa. Bene, nel giro di pochissime ore, e questo era sotto Natale, perché non mi ricordo se il giorno prima o il giorno dopo Natale quindi si presume da certi professori con il panettone a casa davanti al popolare, bene, nel giro di pochissime ore questa notizia è stata ripresa da centinaia di blog italiani e nel giro di pochi giorni sono stati fatti interventi alla radio su quotidiani, su Seminari, su Espresso eccetera eccetera e ci sono state ben due interrogazioni parlamentari su questo tema tra l'altro alcune ci sono ulteriori prese posizioni sia da parte di parlamentari di Forza Italia sia di altri partiti tra l'altro si è detto per inizio e per fare un condizio al momento in cui è stata pubblicata questa notizia sono stati praticamente passati al setaccio dai blog per italiani tutti i siti dei partiti italiani e sono stati trovati file fatti con file craccati anche sul sito dell'informazione comunista quindi o anche loro potrebbero fare craccato la stessa genzia di Forza Italia però questa è stata una notizia curiosa però particolarmente interessante per vedere come una notizia ha origine e come questa si può evolvere dalla rete anche al fuori di rete questa sarà una cosa che ci ritroveremo sempre di più di fronte nei prossimi tempi anche perché il vantaggio dei blogger e del blogger è il fatto di averlo così un'attenzione anche a un'idea di cose che sfugge quello che è invece il giornalismo ufficiale italiano Una domanda Gianni ovviamente come forse a tanti questo episodio mi ricordo un po' special notizia ma vi viene in mente di dedicare mi pare che il vostro sforzo sia soprattutto nel raccogliere selezionare e rieditare le notizie ma avete anche un piccolo gruppo di comandos proprio adibiti a cercare e a creare notizie individuali per primi? o siete solo voi due i comandos? No, in senso che noi siamo a questo punto di vista dei recettori come dicevo, in questi minuti se ne sono accorti due ragazzi che lavorano nello studio però una volta che ti viene fornita la notizia poi l'interesse è quello di diffonderla sarebbe molto interessante costituire anche da questo punto di vista una rete che ti permette poi di convogliare delle informazioni e questo per esempio accade per altre cose per esempio con la galleria che facciamo settimanalmente di cartelli svernacolari in cui si è innescato un meccanismo in cui decine di persone ci mandano una foto del cartello strano, particolare e ormai molto evidentemente questo è lo spirito in cui vorremmo spiegare quindi anche tutti noi siamo invitati a inviarvi manifestazioni grafici ed espressioni grafici come dire di interesse sociale o politico assolutamente e qui a Santarino che ne dovrebbero essere per santi da andare a parte il discorso sociale del design volevo sapere il design è di destra o di sinistra? il design è di destra o di sinistra? mio professore all'università un professore di analisi matematica diceva che l'integrale derivata non sono non è rivoluzionale, non è reazionale e il suo utilizzo è reazionale o rivoluzionale noi abbiamo visto, voglio fare un esempio che era molto bello poi si può vedere veramente addirittura quindi si verifica subito avete visto come l'artografia interpretata in un modo o nell'altro cioè restituita in un modo o nell'altro può dire cose che non sono esattamente la stessa cosa cioè da una parte noi abbiamo visto che gli Stati Uniti divisi in maniera maggioritaria vogliono dire che la maggioranza di busce è schiacciante divisi in maniera proporzionale e raffinatamente proporzionale vogliono dire che praticamente gli Stati Uniti sono divisi trasversalmente a metà tra azzurro e rosso e sono praticamente 50 contro 50 perché poi tendono a integrarsi verso il violetto due settimane fa, quindi pochissimi giorni fa forse meno abbiamo pubblicato un post che Gianni può trovare se lo trovo se sa come si fa qui abbiamo pubblicato un post in cui la disegnatrice della carta di Helsinki per la divisione di Israele e Stato della Palestina aveva restituito questa cosa che andò appunto a destra se chi per essere in discussione tra Arafat e lo Stato di Stato e quella divisione di due stati ecco, quella carta provocò un incidente diplomatico in quanto Arafat, questa che vedete, vedendo questa carta si arrabbiò diciamo buttò tutto per aria e le trattative si intervistavano perché? Perché la restituzione di questa carta era una restituzione illegibile e in qualche modo non mediata cioè si vedeva chiaramente come i territori della Palestina sarebbero stati uno spezzatino completamente indigeribile la stessa disegnatrice ha fatto a Menda per questo suo modo di restituire poi era una disegnatrice per modo di dire ma era un avvocato era un avvocato, cioè un disegnatrice in quanto lo disegnò ma nel momento in cui si accorse che il suo modo di rappresentare una realtà aveva creato una situazione politica e quindi una responsabilità politica di un certo tipo, insieme a un grafico ridisegnò la cosa che poi pubblicò nella rivista americana in cui si vede come lo stesso territorio viso in un altro modo offriva uno spaccato della realtà ben diverso e quindi politicamente più usabile per questa situazione ecco in questo caso l'usare il design in un modo o nell'altro dà anche uno spaccato di come vuoi usare la realtà la mappa di Jefferson, il diagramma di Jefferson che abbiamo visto prima come abbiamo visto dà una lettura della realtà che porterà dei risultati che saranno poi equiparabili e giudicabili in maniera non più grafica ma storia quindi in realtà non esiste un modo anonimo di definire destra o sinistra reazione o rivoluzione dal punto di vista grafico ma l'andare in una direzione o l'andare nell'altra darà dei risultati questi risultati poi saranno non solamente ovviamente determinati dalla grafica ci mancherebbe altro, però la grafica avrà comunque un ruolo di responsabilità importante comunque diciamo da questo punto di vista forse se di destra o di sinistra la grafica può essere utile anche di critica della comunicazione poi si è dovuto ricordare anche una frase di Don Milano nel senso adesso è facile criticare il potere al momento in cui ci sarà un altro tipo di governo di sinistra sicuramente non ci sarà assolutamente nessuna remora a criticare ugualmente le malefatte, se queste ci sono, della comunicazione per cui direi che da questo punto di vista l'aspetto comunicativo vuole essere al di sopra delle parti anche se in molti casi, come direi, siamo quasi tirati per i capelli a affrontare alcuni tipi di argomento perché ecco, questa è la situazione purtroppo ci sono una serie di situazioni che sono enormemente interessanti più che in se stesse per quello che determinano voi avete visto prima le schede traccate di Forza Italia ora, sono state trovate, sono state mandate, vedete, come molte altre cose con un rischio di soddisfazione satica da parte nostra ma non tanto perché Berlusconi ha rubato qualche espresso che costa 6 milioni e 300 mila lire non per questo naturalmente, ma perché era così buffa la cosa che quella ampare pubblicitaria è intitolata Operazione Verità ecco, l'Operazione Verità parte con dei manifesti che sono fatti con un programma rubato ecco, questa era divertente ma non è che nessuno di noi pensava adesso andiamo alla magistratura a denunciare questo orrendo abuso ben altri ce ne sono, come immagino lo sappiate bene quello che poi si è scatenato però su questo che per noi sarebbe finito probabilmente lì, divertente ci siamo divertiti, qualcuno ci ha letto, qualcuno ci cita, punto però cosa è successo? è successo che noi abbiamo avuto 60-70 commenti su questo i giorni successivi ci siamo ritornati sopra per vari motivi per cui ce ne abbiamo avuti altri tanti il blog di Libero, Libero It, ha avuto credo 600 commenti su questa notizia eccetera 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 ecco, come erano disposte queste notizie? queste notizie erano disposte praticamente come il paese metà ci credevano e metà non cioè metà credevano che fosse vero perché Berlusconi è un ladro un figlio di buona donna e metà credevano che invece Berlusconi fosse del tutto innocente ci mancherebbe altro e che questa fosse una delle tante bufale che girano il rete questo atteggiamento cioè questo atteggiamento di divisione assoluta si è riprodotto nel dibattito alto cioè nel dibattito parlamentare per cui noi abbiamo Petoraro Scario che ha fatto un'interrogazione al Parlamento e come si chiamava il Forza Italia? il responsabile del sito web di Forza Italia che ha difeso a spadatratta la cosa dicendo se non ci credete venite dal nostro collaboratore a vedere che questo programma è vero cioè facendo quello che è una dichiarazione del tutto apoditica cioè l'ultimo che parla ha sempre ragione cioè perché tanto nessuno può andare mai a vedere e chi va a vederlo sarà uno che non riuscirà a variare l'opinione che hanno tutti quelli che per ultima cosa hanno letto quella dichiarazione questo è ovvio basta che voi guardate la televisione vedete benissimo che i dibattiti sono fatti così non è importante dire la verità o dire una cosa che è in qualche modo dimostrabile basta dirla per ultimo perché l'ultimo c'è chi urla più forte ha sempre ragione avrebbe detto la minonna quindi è una cosa ecco questa cosa questa constatazione è una constatazione che va bene al di là della notizia perché è la certificazione in questo modo abbastanza testata di un atteggiamento che è un atteggiamento sociale un atteggiamento sociale forte quindi noi abbiamo in questo momento due schieramenti di cui siamo più o meno a cui più o meno aderiamo che però lavorano in questi termini uno schieramento effetti in maniera del tutto politica e comunque Berlusconi ha torto un atteggiamento e al contrario credo che Berlusconi ha ragione ecco questo è quello che si deriva bene alla notizia divertente da questa esperienza ed è un'esperienza che ha invece un valore dal punto di vista comunicativo ben al di là di questa di questa cosa pure gustosa noi siamo molto affezionati e ci siamo molto divertiti forse da questo che ho adesso parlando a me sembra un esempio che solo si capisce anche dei direttori come pensano come sono schierati forse si capisce anche un pochino anche la politica cioè che ha quasi in qualche modo strumentalizzato nuovamente queste specifiche per l'altra parte e l'altra parte di qualche altro modo cioè una sorta di solito cortocircuito che avviene nei dibattiti moderni che si sentono adesso cioè mi sembra forse da un suo punto di vista esagerato possiamo prendere una notizia così come ha detto se non è definito non ci siamo più una sorta di curiosità in fondo la legge che ha fatto Berlusconi ma è una legge tutto sommato della Berlusconi non ha fatto niente Berlusconi questo è abbastanza off cioè non credo che il Presidente del Consiglio vada a controllare i procambi nello studio che gli fa l'antoline ci mancherebbe altro ma questa notizia poi appunto perché non è possibile da parte sua controllare fino in maniera così capillare insomma le relazioni che fanno la sua gerarchia a scendere mi sembra anche dall'altra parte che sia preso questa piccola notizia per tirare la io questo l'ho detto mi sembra come noi siamo schedati è ovvio cioè non c'è nessun motivo di io credo che sia un atto di come si vuole dire di ecologia culturale il fatto che se tu leggi una cosa sai di chi sta parlando io non ho nessuna come si può dire regola dichiarare come la penso ovviamente però come la penso in questo caso ho anche detto che cos'era questa notizia questa notizia era un divertimento ed era lo stesso divertimento avremmo fatto anche forse per rifondazione comunista salvo che per lo meno rifondazione comunista al suo campare si chiamano in un altro modo quindi non c'era quell'aggancio no no dicevo che dicevo che quello che lei definisce una sorta di divertimento è stato poi preso a strumento e questo è che cosa è interessante mi sembra è comunque la notizia confiata si chiamerebbe forse no perché la notizia si confia noi abbiamo anche scusate perché se no non vedo cioè la notizia confiata la confia direttamente il giornale noi non abbiamo dato una notizia che abbiamo trovato ironizzandoci sopra appunto il nostro discorso è già finito ma io non mi sarei mai sognato se avessi fatto un commento che non ho fatto io ma che comunque era condiviso ma non mi sarei mai nemmeno vagamente pensato che il presidente del consiglio qualunque ne sia il nostro giudizio si metteva a craccare un programma ma figuriamoci è ovvio che non è stato così però era così buffo il rapporto che c'era tra il governo che ha appena fatto una legge per impedire qualsiasi pirateria informatica fa una campagna elettorale che si chiama operazione verità e la prima cosa che manda il rete sono i programmi piratati è ovvio che è divertente allora questa cosa divertente viene evidentemente amplificata poi prendendola a esempio di un comportamento e quindi facendoci sopra un ambaradano politico ufficiale perché poi nessuno ha ha detto cioè nessuno sapeva più da dove fosse nata questa notizia salvo poi i primi blogger della prima ora e tutti gli altri non sapevano assolutamente più niente si c'è anche un dottor Andrea anche un altro livello che è un livello diciamo di interesse che può essere diciamo più importante per voi rispetto alla discussione del contenuto di questa notizia che è come nasce come si sviluppa una notizia per me è stato interessante questo aspetto più che e la notizia in sé di cui appunto come abbiamo detto ci interessava per un certo punto è stato interessante perché è stato come avere un esperimento in vitro che è rarissimo nel campo della comunicazione cioè essere l'origine di una notizia e poter vedere come questa si diffonde perché è una notizia che ha appunto origine in rete si è come dire enfatizzata e allargata all'interno della rete poi è uscita fuori questo è qual è appunto quindi la conclusione di questo di questa esperienza è il fatto che di nuovo torniamo alla responsabilità del design noi dando semplicemente una notizia che può essere una curiosità in realtà tutte le volte inneschiamo un meccanismo di comunicazione di cui non abbiamo il controllo non sappiamo cosa succede questo qui è assolutamente involontario tutto quello che il fatto che potesse avere un così grande successo e un così come dire un grande rilievo dentro e fuori la legge quindi è questo l'aspetto importante anche per comprendere che effettivamente adesso abbiamo dei mezzi di comunicazione e delle armi a disposizione chiamiamole così enormemente più complesse di quelle che esistevano qualche tempo fa perché probabilmente senza un blog senza la rete sarebbe stato impossibile come dire avendo saputo questa notizia far sì che ci fosse una cortocirculazione così ampia evidentemente adesso è bene riflettere sul fatto che ci sono degli strumenti a disposizione della comunità che permettono anche appunto la diffusione e la creazione di notizie con modalità del tutto nuove e questa è la parte interessante nuove perché anche un discorso diciamo prima di partecipazione democratica alla vita politica passa anche per coinvolgimenti assolutamente inconsueti dalla fotografia da ritratto con il cartello che uno mette in rete ha l'attenzione e la comunicazione per notizie come questa la grande accusa che viene fatta a questi sistemi tra internet in generale è la diffusione di notizie incontrollabili questo è una delle tante accuse alla rete che vengono fatte le notizie sono incontrollabili non si sa se è vero o no questo è stato ripreso dal da la civiltà cattolica forse diciamo molte c'è stato un grosso un forte momento di dibattito questo però in realtà eh la rete e quindi i nostri sistemi non solo hanno delle controindicazioni hanno comunque dei contropesi che possono essere attivati in qualsiasi momento vale a dire noi mandiamo una notizia qualsiasi qualsiasi tutti voi voi siete una trentina più o meno tutti voi possono scrivere dicendo no, non è così Cristoforo Colombo non è nato non ha scoperto la meca nel 1618 ma nel 1490 questo è una cosa che voi potete fare quindi io posso diffondere una notizia falsa posso farlo benissimo o un refuso semplicemente o un errore e ho il giudizio che io firmo è un mio giudizio quindi se io dico Berlusconi figlio di buona donna che è un problema mio non è un problema vostro non è una notizia è un giudizio può essere un'offesa può essere una calutina comunque sempre appartiene alla sfera della mia valutazione del fatto ma se dico Cristoforo Colombo ha scoperto la meca nel 1618 oppure la rivoluzione francese è stata nel 1916 evidentemente chiunque può immediatamente dire andate a consultare la rivoluzione la russa e vedete che l'America è stata scoperta nel 1492 secondo il viaggio di Colombo il momento ufficiale della scoperta oppure la rivoluzione della cede è stata nel 1789 cioè voi potete avete la possibilità di rimettere in discussione automaticamente qualsiasi informazione cosa che non potete fare con la pubblicistica ufficiale perché se Repubblica mi dice che Lenin è morto è morto nel 1216 finché qualcuno non lo scriverà una lettera al direttore quello sarà scritto andrà in biblioteca e in quel numero ci sarà scritto quello allora perché è più attendibile questa succedeva in altre epoche che i giornali soprattutto di tradizione anglosassi sono essi un revisore qualsiasi articolo di ordine o scientifico o storico o comunque dove stava informazione non valutazione dei fatti era soggetto a qualcosa che era in redazione che era il revisore io scrivevo l'America è stata scoperta nel 1516 il revisore diceva questa cosa non mi torna andava a consultare la legittoria britannica e diceva questa ha scritto una coglionata e me la correggeva in bolse e non compariva mai nel giornale un errore tecnico assoluto ma adesso questo non c'è più adesso i giornalisti mandano le avete direttamente il pezzo che stanno scrivendo qualsiasi cosa viene scritta è qualcosa che va immediatamente sulle vostre tavole e quindi voi ve la bevete o non ve la bevete esattamente come avete solamente con il quotidiano o con la rivista non avete alcuna possibilità di variare l'informazione come non avete la possibilità di variarla con il telegiornale eccetera 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 perché sono mezzi che comunque non presuppongono un'interazione il blog che presuppone che tu puoi immediatamente non solo darmi un'aggiunta di informazione darmi un link presso un sito particolarmente attorevole mi dirà più cose su quello di cui sto parlando ma darmi informazioni dirette io questa la so e te la dico ecco questo qui è comunque diciamo è ribaltare la frittata rispetto al discorso iniziale è quello il sito non è attendibile che chiunque può dire quel che gli pare e e comunque porlo per lo meno sullo stesso piano di qualsiasi altro mezzo di informazione cioè l'esempio abbiamo fatto in fondo poi la fine del discorso su Berlusconi noi abbiamo queste due posizioni che hanno perfettamente bilanciate uno diceva di sì lo diceva di no nel momento che ci si allontana dalla fonte reale e non conosciamo più l'episodio non abbiamo più assolutamente possibilità di sapere se non abbiamo una conoscenza tecnica tale che ci permette di saperlo perché tecnicamente sappiamo come funziona ora io per esempio non ho la minima idea io se avessi visto quel K non avrei saputo assolutamente di cosa sta parlando quindi non ne sarei nemmeno accorto ma esattamente uguale Pecoraro Scania l'altro che è responsabile forse italiana e ha controbilanciato Pecoraro Scania è qualcuno che invece ci ha raccontato alcune balle non solo ci ha raccontato alcune balle ci ha raccontato anche cambiato discorso cioè quindi la sua risposta se 10 il commento di questo signore ha detto queste cose comprendo che si tratta di una muffa si ma poi non solo dice ma racconta racconta un altro fatto facendolo mescolare con quello dal momento che più o meno si fanno le stesse cose dal momento che nessuno sa bene qual è l'argomento del discorso il rispondere con un altro cioè la tu sei un ladro e io rispondo si ma anche la zia di tua sorella le ha rubato le metri al mercato che è un discorso che non c'entra assolutamente niente a questo punto sembra avere ragione cioè la politicità del discorso politico finisce per essere condizionante di per sé al di là di quello che viene detto comunque che ha questa prevenzione per esempio potrà ascoltare l'intervista dell'onorevole Palmieri su gd allegato alla rivista internet magazine che sarebbe arrivata la prossima settimana che ha come mast del numero proprio l'intervista dedicata a questo argomento abbiamo una domanda prego volevo sapere ho visto ultimamente qualche programma in televisione il dibattito di Berlusconi e non Berlusconi comunque si sentono parlare le due parti e al di là di non so conoscenze esterne una persona rimane io almeno sono rimasta un attimo eh diciamo cioè non mi sono riuscita a dare ragione da una parte dall'altra perché comunque te la ritirano cioè è incredibile queste cose tutte le che hanno scusa questo è cosa che è la sua missione sì però non riesci a capire quelle delle due fazioni io non so le persone a casa che possono passare una loro lucella una loro non sicuramente tramite la televisione questo lo saprete sicuramente tutti cioè la comunicazione in televisione è una comunicazione che si basa su affermazioni apolitiche di pochi secondi è escluso assolutamente è escluso assolutamente qualunque forma di dibattito approfondimento analisi e commentazione perché non fa spettacolo televisivo quindi televisione se il discorso supera i 30 secondi si cambia canale quindi la comunicazione in televisione assolutamente è il contrario della comunicazione politica infatti non è per me si parla di spettacolo la televisione si spettacolo ma una persona come può documentarsi quando cioè si vede non so le due fazioni che comunque stanno facendo la stessa piatta della bilancia perché o le due mettono o cioè io sono rimasta un attimo sbibottita non nel senso che prendevo la televisione come la futura verità però almeno cioè non sapevo più da che parte stagio perché volevo non so spiegarmi dunque purtroppo per la televisione lavora all'interno di altri sistemi cioè io non voterò per Brusconi perché mi ha convinto con quello che ha detto snocciolando il 15% il 16% dove poi c'era il 16% il 12% cioè questa sorta di numeri facendo salvo poi tutte le confumere i racconti le barzellette cioè tutta questa enorme pletola di chiacchiere no? che ti stordiscono ma non ho nessuna possibilità di controllare il 16% nessuno ha quella possibilità non ce l'ha nemmeno il 16% perché poi i numeri in questo caso sono come diceva il mio professore di matematica sono come vengono usati perché possono essere reazionati o rivoluzionati a seconda del contesto e del modo in cui vengono espressi la maggior parte di quei numeri possono essere addirittura finti perché chi è che le va a controllare? non c'è un momento di controbilanciamento di quei numeri allora lì lavora semplicemente sulla sulla tua credibilità pregressa sul tuo sulla tua attendibilità e sulla tua opinione politica è un'opinione in qualche misura già formata cioè se tu hai un'opinione che è formata ed è calibrata per votare alleanza nazionale sarai inevitabilmente portato a dare più credibilità a quello che dice Fini piuttosto che a quello che dice Fassino e viceversa perché comunque tu hai avuto una serie di prove che non so quale siano ma che sicuramente ci sono state nel corso del tempo che ti hanno portato a formare la tua coscienza politica in una direzione e a dargli un orientamento ecco cosa serve la barzelletta il raccontino dei bambini di Giona a pallone mentre lui fa le corna servono semplicemente come captaggio di benevolenza per qualcuno che non ne sa assolutamente niente quest'uomo è tanto simpatico quasi quasi voto questo cioè diciamo che è una specie di chiamata alle armi della massaia tipo italiana che non sa assolutamente niente di niente e quindi può essere accalappiata dal primo venditore di tappeti o il cattatore di serpenti che passa ora anche però a questo c'è un limite perché la cosa tende a funzionare fino a un certo punto e fino a un certo punto è la credulonità o la tendibilità della cosa cioè è evidente che faccio un esempio il presidente del consiglio a lui uno degli ultimi porta a porta ci ha raccontato che figuriamoci se lui faceva le corna al suo amico Pilares o come si chiamava da parte in realtà lui visto che aveva giocato a calcio con alcuni bambini in quel cortile fino a pochi minuti fa quando poi gli hanno chiamato una foto e visto che questi bambini facevano dei cestacci voleva dire bambini non fate le corna perché non sta bene questo l'ha raccontato due volte una volta a porta a porta e una volta dall'altra parte ora evidentemente visto che tutti noi siamo gente che in qualche modo vive nel mondo la l'occasione di quella foto famosa con Berlusconi che fa le corna al ministro davanti era una riunione dei ministri degli esterni della comunità europea in un castello spagnolo allora ve le immaginate che nel cortile del castello spagnolo mentre tutti i ministri della comunità europea sono lì per la chiusura del convegno ci siano dei bambini che giocano a pallone e un ministro settantenne italiano cioè il presidente Berlusconi si mette a giocare a calcio con i bambini vestito con il doppiometto Caraceni che porta sempre ve lo immaginate una cosa del genere ecco questa è chiaramente una cosa da ufficio stampa anche se mi permette di basta rega quindi evidentemente questa è una idiozia qualsiasi che ci viene raccontata perché ce le beviamo tutte perché come ci disse una volta ci giudica all'altezza dei bambini della quinta elementare cioè il popolo televisivo secondo Berlusconi secondo Berlusconi ha l'ampiezza culturale di un bambino deficiente di undici anni questo detto tra virgolette non lo sto dicendo ok quello che dice Berlusconi sì lui dice un bambino di undici anni deficiente questa è una citazione per cui ecco evidentemente questo rispetto alla mia analisi politica dell'evento gli fa perdere molta credibilità perché se mi raccontano balla su questo figuriamoci quando mi snoccio tutti i numeri a macchinetta che cosa mi sta raccontando che ne so cioè quando vado a verificare un fatto che è truffaldino poi tendo a attribuire la stessa truffaldinità anche a tutto il resto può darsi che non lo sia però è anche probabile che lo sia l'uomo è questo evidentemente posso fare lo stesso discorso qualora ce ne abbia la prova controprovata su tutti gli altri quindi la mia la mia opinione che non è del tutto favorevole come ho detto e come avete capito a alleanza nazionale o a Fini però non mi permetterei mai di dire quello che mi racconta Fini sia una truffa sia una bugia perché non lo so perché mi sembra può darsi anche che sia credibile do una valutazione politica di quello che mi dice Fini e non mi piace però è una cosa diversa questa è una mia opinione non è un fatto mentre invece il fatto che i bambini non giocano a pallone davanti ai ministri della comunità europea questo è un fatto grazie grazie che potete vedere il luogo di origine del regolamento e questo viene aggiornato ogni due minuti per cui questi per esempio sono in questo momento i collegamenti attivi su social per cui la san marino non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno interessante è un po' preoccupante perché per esempio io sono in grado di sapere ciascun collegamento oltre al luogo da cui si collegherà anche alcune informazioni particolari che riguardano per esempio Milano la pagina che sta vedendo il tipo di browser che sta utilizzando il tipo di sistema operativo il monitor che ha se ha i cookies attivati oppure no se c'è flash se c'è java e quant'altro se dovessero diventare eh purtroppo è reale purtroppo è reale si può fare è reale si può fare no? c'è una cosa non c'è la frase no qui manca diciamo l'elemento fondamentale che è sapere chi è la persona con un numero di telefono però diciamo sui log del centro che esiste anche questo questo qui questa che non è che è una cosa che non diciamo possibile che sta a vedere mio figlio quando abbiamo fatto la cosa su il programma attaccato di Berlusconi è stato preoccupato per due o tre giorni il mio figlio è adulto ha 34 anni quindi è uno che dovrebbe essere già strutturato con la paura che Berlusconi ci mandasse la guardia di finanza a controllare i vostri studi dicevo che non è tutto cioè è vero la paura secondo me del tutto immotivata ovviamente però l'idea che questo meccanismo possa estillare in qualche modo un controllo e possa farti credere sia possibile è comunque preoccupante cioè questo che dicevo da anni era esattamente questo cioè questo è una specie di grande fratello orvegliano non di anale 5 di grande fratello che comunque ti può controllare in qualche modo ti può controllare quindi renderti in qualche modo meno libero quindi non più un libro come noi diciamo si può essere che tutti voi ci potete raccontare che volete lì sopra ma in qualche modo perché ti obbligo a un controllo sociale diciamo ecco e se invece di mandarlo in rete lui dal suo studio l'avessi dovuto mandare in rete io quello sul Berlusconi Craccato mio figlio si sarebbe che lavora con me che è uno dei grafici del mio studio si sarebbe in qualche modo opposto avrebbe trovato molto del cipino avrebbe avuto paura è stato soffito più o meno ma non completamente dicendo ma tanto lo mandano loro e quindi da più a più più da loro va da loro questo è risforzato i dati no però tutte queste cose sono ovviamente fatte legge e rilevanti e sono semplicemente aneddoti a spicciola però ti racconta molte cose in filigrano di quello che succede su tutto ciò perché in realtà te ne racconta tante te ne racconta non è che tutto così in qualche modo la stessa pappa e comunque si riesce a rappare domani cioè in realtà mio figlio quella notizia non l'avrebbe data avrebbe avuto paura mi potresti dire ah scusa dopo 3 anni mi potresti dire quale per te è come dire la C mentre il risultato più importante che mi sembra era ottenuto con questo progetto la risposta dei giovani la risposta dei gratici la non risposta avete capito quali sono per esempio gli interessi sociali più ricicere più più sentiti io so che a quale tipo di notizia avete più risposto o meno risposta da questo punto di vista per esempio i commenti sono facile il diciamo il maggior numero di commenti si accetta sui post particolarmente politici quando uno può dire può appunto dire ma siete degli sport comunisti oppure no guarda questo che cosa ha fatto guarda quest'altro nel senso il dibattito si scatena molto sui temi molto legati alla politica più che alla grafica però diciamo questa è solo la punta dell'asberg che esce fuori sul commento è ovvio che la partecipazione di chi legge un articolo è particolarmente sostenuta se uno ha qualcosa da dire che si viene stimolato ad avere qualcosa da dire molte volte sulle recensioni ovvio non ci sono commenti perché c'è poco da aggiungere però questo è solo un aspetto l'aspetto importante è il fatto che per esempio noi abbiamo iniziato con un determinato numero di accessi che è stato centruplicato nell'ultimo anno adesso abbiamo il senso che abbiamo adesso l'ultimo mese abbiamo avuto 70.000 contatti unici che significa 70.000 computer diversi collegati durante il mese quindi si presuppone circa persone che è un numero enorme se pensiamo appunto che altri blog analoghi a questo a cui anche ci siamo ispirati noi per esempio il design un server americano che è fatto appunto da una serie di quelli di grafici che fanno risolvimento a pentagram eccetera a anche loro 70.000 contatti unici mensili considerando il fatto che in inglese ha un vaccino di utenza enormemente grande questo non vi ha mai portato a pensare di parlare anche in inglese perché mi pare il senso italiano adesso si diciamo questo sarebbe una nostra ambizione per riuscire a fare l'inglese che per ora è frustrata semplicemente da un punto di vista esteticamente economico non ci sono persone che pagare altra domanda con 50.000 contatti direi che di di farne anche un canale pubblicitario è un principio vostro non mettere banner per ora per ora non l'abbiamo utilizzata questa forma che abbiamo inserito da un due o tre settimane che è appunto di grande blog che sostiene in social desensi con un'azione di pizza che chiunque può tornare una cifra a piacere da un euro come capitato a 20 euro o anche se nessuno vuole e che serve per mantenere le spese correnti che sono tipo appunto collegamenti telefonici collegamenti internet eccetera e si chiama documento di donazione di pizza semplicemente perché quando trovi qualcosa di interessante ma che può essere servito per qualcosa uno è come dire spinto a farlo ad un'azione e questo quello è con cui abbiamo raggiunto quasi 100 euro in un mese sembra bella cifra quindi probabilmente nel prossimo 3 mila anni possiamo assumere un traduttore dall'inglese la cosa la cosa è quasi impossibile questo oggetto può funzionare o non funzionare può essere autorevole o non essere autorevole però il problema è che se non c'ha un momento di passare da una autorevolezza volontarista a una autorevolezza professionale anche se teoricamente la cosa è contrasta perché in realtà il fatto di ospitare tutte le vostre lamentere lo porta verso a un'idea leggermente più anarchica dell'oggetto e non tanto professionale però il problema di fondo è che se non passa a una professione cioè a un sostentamento di qualcosa di uno sponsor delle cartiere burgo dell'AIA che stesso che sfirma la cosa ma non ma non la paga in realtà ecco tutto questo impedisce di fare queste cose che sarebbero essenziali tradurlo in inglese sarebbe essenziale ma tradurlo in inglese non può essere fatto da un volontario da un terzo di noi perché? perché viene fatto da una signorina da un giovanotto che la mattina alle 9 sono in ufficio prendono un foglio che c'è scritto traduci questo e dopo 3 ore è tradotto non può essere fatto da qualcuno che quella mattina ha mal di denti oppure deve andare a portare a scuola il bambino oppure c'ha da fare oppure deve lavorare perché c'è un lavoro urgente ecco e diventa tutto quello che è tecnico non può essere solo volontarista deve essere anche proprio normalmente professionale chiede da qualcuno una cosa del genere con uno stipendio molto bene per i nostri lettori non capisco italiano abbiamo attivato questo strumento di google che è la traduzione automatica in inglese che noi abbiamo definito comic english perché traduce automaticamente tutto perché per esempio il nostro presidente di laia Mario Cazza diventa Mario Pub Square oppure il bel più ingrito è il bel più ingrito però diciamo non riesce ad avere un farina pura forse del tema più o meno quindi Cristina Gabbini sei fortunata non te lo traduce per il Mario Paolo Scuola e per il per il per il per il per il per il ora per tutto ciò ovviamente è anche divertente e gradevole nel momento che lo prendiamo in contropiede cioè nel momento lo chiamiamo comic english evidentemente diventa addirittura gradevole diventa parte della performance però è evidente che deve essere un servizio reale poi quando abbiamo detto il designer observer ha 70.000 autenti singoli mensili però negli Stati Uniti d'America con l'inglese espressione della più importante associazione grafica del mondo e con Stephen Heller Michael Behloth e Rick Poehler che adesso credo si sia staccato ma che sono tre tra i più importanti tra grafici al director e critici del design del mondo ecco l'idea che noi si sia più o meno lì sembra addirittura incredibile e infatti io tendo a non crederci tra l'altro credo che avrete l'idea del motivo da che cosa è dovuto questa crescita espondiziale del genere Diciamo da quello che finiamo per esempio sicuramente viene visitato non da soli grafici non da soli grafici questo non lo è mai stato non è mai successo non è mai successo nemmeno l'averebbe un processo diciamo però in grado alle statistiche sicuramente un motivo di attrazione è la quantità di materiale che adesso fa parte dell'archivio di social distancing nel senso che in questi tre anni di attività tutto il materiale che è stato prodotto è rimasto assolutamente disponibile in prezzo per cui con per esempio il motore di ricerca interno è possibile ritracciare qualunque testo che è stato pubblicato sul progetto determinato tempo e quindi diciamo questo è un aspetto che attira molto perché permette per fare le ricerche o di intaggiare i documenti per quello che riguarda molti dei temi dell'organizzazione Ciao vorrei farvi vedere ancora altre cose o siamo ormai alle 4 e mezza quindi forse è ora di ci sono delle ultime domande no io vorrei solo mi piacerebbe chiudere con un punto interessante è un domande che è importante per me quanto è importante per voi sicuramente tantissimo ma l'essere informatico cioè per questi giovani designer che siano artisti o design industriali l'importanza dell'informazione di essere al corrente di quello che succede intorno a noi nel mondo quanto è quanto è come bisogna fare per essere informati la cosa principale all'inizio del discorso è semplicemente l'informazione cioè noi non abbiamo bisogno di essere informati in quanto grafici abbiamo bisogno di essere informati in quanto cittadini cioè evidentemente se non siamo informati come i cittadini lo saremmo ancora meno in quanto grafici quindi dopo di che da questo volontà da questa passione per sapere le cose deriva anche poi dal nostro essere grafico la passione per sapere le cose che ci riguardano specificatamente e che quindi siamo qualche cosa di professionalmente usabile usabile quindi all'interno di una nostra quadratura la cosa più importante naturalmente è la prima vale a dire voi dovete sapere delle cose non per fare il grafico ma per vivere questo è il primo momento dopo di che queste cose che sapete potete tranquillamente riversarle nella vostra professione e sarete quindi dei professionisti sicuramente più attendibili cioè l'idea del professionista che sa solamente quello che riguarda come si accende e spinge il computer come si usa i programmi è un'idea ovviamente imbecille perché in quel modo lì sarete sempre dei cittadini comunque di serie B e quindi dei grafici di serie B il problema non è che voi siate molto bravi con i grafici ma se siete molto molto bravi con i cittadini avete un opinione molto forte sarete sicuramente qualcuno che nella sua società ha una parola ha un'opinione ha un pensiero determina questo pensiero a seconda della situazione in cui è se no sarete sicuramente tagliati fuori da quasi tutto quindi il problema più importante è proprio la vostra formazione in quanto uomini non in quanto in quanto grafici l'essere grafico è totalmente irrilevante in questo discorso almeno questo è il mio giudizio io penso che nel momento che voi accendate il computer dovete accendere non per fare una cosa ma per esprimere un'idea qualora anche quest'idea sia semplicemente la commessa di un datore di lavoro che vi chiede una cosa però in quella voi mettete la vostra personalità quell'opinione si trasforma un progetto grafico che dice qualcosa non solo di voi ma della vostra idea del mondo ecco il grafico io una volta pensavo molto prima del computer ma che comunque il design deve essere una fortissima responsabilità anzi ne pensavo due una era l'insegnamento e l'altra era la responsabilità cioè tu sei responsabile tu trasmetti delle informazioni continuamente dai degli input dici delle cose condizioni che vede i tuoi prodotti quindi in qualche modo sei responsabile di quello che stai dicendo non puoi essere un professionista che non sa cosa dice ma lo dice a caso perché sa manovrare un computer è demenziale questa impostazione del discorso noi abbiamo molte volte l'ha citato prima Gianni abbiamo molte volte qualcuno che ci dice ma qui si qui non si parla di politica qui si lavora detto termini per brutti comunisti perché parlate sempre di questo parlate di grafica cosa vuol dire? vuol dire semplicemente noi dobbiamo dobbiamo insegnare come si accende un po' più quale sono qual è l'aggiornamento di Friendo di Illustrator questo è quello che si chiede alla nostra coscienza di grafici responsabili io mi rifiuto a me non mi importa assolutamente se il se c'è l'aggiornamento a Photoshop benissimo qualcuno piacciono queste cose se le guarderà ne sarà ben contento io le userò quando mi arriveranno sui miei compiuti ma non ho nessun interesse su quello invece l'idea una cosa che io non sapevo l'esistenza di una tribù cerovie che vestiva in quel modo che aveva che ha costruito un suo alfabeto in quel modo che ha scritto un giornale in quel modo che sta distrutta da un'altra civiltà che si è sovrapposta fisicamente mi interessa molto e mi interessa molto di più come uomo che non come grafico dopo di che visto che la storia della tipografia e la storia dell'alfabeto sono qualcosa che mi interessa anche professionalmente certo che mi interessa anche come grafico però non escludo la prima parte del discorso perché la socialità è qualche cosa che contiene la grafica e non viceversa quelli che ci dicono parlate di grafica e non di politica evidentemente saranno con tutta probabilità dei pessimi grafici e dei cittadini buonissimo informati io ho l'opinione che tutte le volte quando sentiamo parlare un grande grafico generalmente sa tutto anche del resto perché perché prima è un uomo prima è un essere pensante dopo di che diventa un professionista professionista molto bravo a fare il suo lavoro ma totalmente ignaro di tutto il resto francamente non credo che esista o perlomeno non dovrebbe esistere nel nostro settore questa è una mia opinione quindi lascio a voi tutte le vostre una cosa anche in base a quello che ha detto adesso se ad esempio un grafico che mi ha dato una commessa a un lavoro in cui si chiede di fare una cosa però il suo pensiero è totalmente al contrario diciamo socialmente parlando non so una pubblicità che per lui è negativa che può fare male c'è che la riforma si non c'è un modo di non portare il modo del tutto questo non è un certo che ha detto un modo di giudizio cioè certo se tu fai la pubblicità le camere a gas c'è anche un gran giuridio della pubblicità che ti faccia dall'ordine magari questo però se tu fai la pubblicità la Coca Cola mentre i No Global vogliono che la Coca Cola sia boicoltata questa è ovviamente la tua scelta io personalmente non farei pubblicità non farei la campagna elettorale di Forza Italia né di alleanze nazionali nel senso che grazie a Dio succede c'è una divaricazione di interesse comune per cui l'alleanza nazionale non mi scelta e io non la farei quindi siamo paritefici nel senso che non incrociamo le nostre vie quindi non abbiamo nemmeno un imbarazzo di una scelta è ovvio che una pubblicità di sociale un deflian un qualsiasi cosa per un comune di centro-destra posso anche farlo non è che questo sia vanno valutate una per l'altra ma questo è un aspetto anche importante perché vorrei evitare che si pensasse che c'è come dire una regola che c'è un'adesione a un sistema che permette di dividere le cose che si possono fare da quelle che non si possono fare questo e diciamo lo spirito in cui abbiamo fatto abitutto il social design il fatto di dare le informazioni il maggior numero di informazioni sia fondamentalmente per creare una forma di interpretazione della realtà questa interpretazione della realtà può essere solo personale è ovvio che al di là dei casi diciamo estremi che lui ironizzava Andrea appunto se fai le pubblicità per le forne a gas è evidente che è difficilmente sostenibile ma all'interno di questo fare una pubblicità per una banca che può essere uno riferanziatore di tante forme di industria bellica o meno è una scelta che uno fa soprattutto anche in maniera personale l'importante è che ci sia una coerenza e fondamentalmente una conoscenza di quello che uno abbia coscienza di quello che sta facendo e perché detto questo poi ognuno elabora in maniera propria quelli che sono i livelli di compromissione a cui non parlare ma non c'è e non ci può essere una regola in cui quella può essere solo una forma autoritaria in cui c'è chi è il giusto e chi è il risultato la tua scelta è determinata non solo da molte cose è determinata dal tuo bisogno di lavorare perché altrimenti tutti gli operai lavorano per Mediaset per la Fiat cosa devono fare? si devono dimettere perché non sono d'accordo con la Bolivia industriale del centro-destra ci mancherete altro cioè è ovvio che non è questo però rispetto questo è più ampio ma la tua scelta è anche determinata dal tuo gruppo sociale se tu frequenti abitualmente un centro sociale di un cavallo a Milano piuttosto che qualsiasi altro è evidente che non farai non accetterai di fare la pubblicità alla Coca-Cola perché te lo sarai sentito dire tutti i giorni che che è uno dei comuni di Firenze molti anni fa di aver cominciato una campagna elettorale una campagna pubblicitaria in un lato senso per un l'utilizzo dei CERT cioè dei centri per i tossicodipendenti e di aver spostruito tutta una cosa per l'attivazione dei numeri di emergenza sanitaria per le overdose di averla cominciata con un assessore comunista e due anni dopo ho finito con un assessore demolistiano cioè in realtà loro due probabilmente pensavano un po' se diametralmente oppure su quella cosa io continuavo a fare la stessa campagna che era stata impostata all'inizio l'ho finita ma non è che mi è venuto in mente adesso c'ho un assessore demolistiano e smetto perché non mi sembra che forse alcuna contraddizione ne aveva avuto alcun condizionamento a forzare la cosa in un modo o nell'altro con tutta probabilità se l'assessore demolistiano mi avesse fatto variare l'impostazione quindi invece che rivolgersi è certo cioè la mano al pubblico mi avesse detto che ora in poi si deve fare una campagna mettendo come numero come numero di riferimento con il modo di intervento san patrignano con tutta probabilità forse avrei smesso perché in quel caso lì avevo dato un'informazione che non mi sembrava politicamente e socialmente concorda con quanto io pensavo però in realtà poi non sono nemmeno così sicuro che sia possibile quei problemi vanno in qualche modo analizzati sulla realtà e non tanto sull'idea però che ci sia un modo prepunico che questo è assolutamente impossibile io non voto per Prodi per esempio ma ho disegnato il marco dell'Ulipo cioè non mi sembra che io non ho nessuna contraddizione o perlomeno non me la sento perché spero che Prodi vinta avete perso proprio no siamo stati più unici visto che il tema è abbastanza caldo voi avete dovete scappare posso fare ancora una o due domande ok diciamoci invitiamoci a direttore Morpurro in fondo l'andamento finale della discussione emerge come sempre e devo dire mi spaventa molto nel senso che sono d'accordo ma che la risposta che poi ha dato a vedere al suo fatto che c'è per essere parato netto diciamo le idee che ha una persona dal problema della grafica del franciale del fake nel senso mi deve essere equivo con il fatto che è sociale la grafica che fa la campagna dalla sinistra e non è sociale la grafica cioè sembra ecocente io che sono molto più vecchi che voi anche il povero l'etica è lavorare per il puntista che non è etico e questo confine in un ciclo di incontri che porta ad analizzare la grafica sociale infatti ho avuto il mio corretto del presente sono convinto che però nell'ambito della grafica sociale come la volete chiamare si sono espressi in vari anni anche delle ricerche grafiche espressive interessanti ci sono vari momenti per me storici in cui questi contenuti particolari che allora si chiamavano grafici di mobilità o di altro genere hanno espresso le nostre forme interessanti le ricerche grafiche più specifiche e principali ci siamo interessanti poi siete oltre che narratori dei problemi della grafica che hanno un osservatorio che è interessante spogliando la domanda io ho la domanda come osservatorio sono emersi in questi anni anche delle esperienze grafiche interessanti anomali rispetto a quella che è la grafica che emerge nella pubblicità o quella più patinata dicendo che avete preso anche dal vostro osservatorio o no? è chiara la domanda? è complessa perché ci sono molte risposte che dovrebbero avere delle pezze d'appoggio visibile perché sennò si parliamo di cose che non che non si capisce di che cosa sono ma la grafica per definizione diceva un grande americano che siano qui complese che immagino ad esempio il grande designer dice che è un linguaggio pernamolare cioè vale a dire è un linguaggio e se si spinge troppo in avanti ovviamente perde tutti i suoi lettori vale a dire se io non parlo come grafico quindi come comunicatore visibile un codice che voi potete comprendere voi non lo leggete e quindi non comunica assolutamente nulla questa è una cosa che è successa a molta grafica in qualche modo da vanguarda negli ultimi anni a David Carson piuttosto che a Domenico Inglesi Why Not cioè tutti i gruppi da vanguarda in qualche modo creano della grafica delle piccole comunità anche di vendita ma non sono interessati ad avere un linguaggio che in qualche modo possa essere comprensivo da tutti o per lo meno avvicinabile da tutti quindi c'è una separazione in questo caso la grafica in qualche modo si racchiude su se stessa scegliere una sua comunità di piccola comunità di frivimento diventa totalmente pernacolare e taglia conti con il resto del mondo questo in soldoni molto molto vaghi naturalmente poi è una situazione molto complicata ecco in questo modo la grafica è al servizio di una cosa precisa ma non ha più o di una piccola comunità precisa ma non ha più diciamo la tentazione che aveva il signore che citava lui che citava Gatto cioè Albert Steiner di essere comunque uno strumento di formazione di informazione di di sedimentazione della problematica sociale Albert Steiner che è un grafico morto nel 74 era un signore che ha fatto il partigiano nella prima volta della sua vita dopodiché ha fatto il grafico del Partito Comunista finché non è morto ma contemporaneamente un rigoroso intellettuale che era un grande grafico lavorava anche per l'industria e quindi cercava di trovare comunque un sistema grafico un sistema di comunicazione che fosse non dico nazionale popolare ma che fosse comunque fortemente comprensibile da chi doveva seguire il suo messaggio quindi i suoi caratteri erano caratteri legibili erano le sue informazioni che davano informazioni nette precise in una quadratura in qualche modo comprensibile eccetera eccetera questo era quello che più pensava essere dal punto di vista tecnico della comunicazione una grafica di utilità sociale che non applicava naturalmente solamente al manifesto per la festa dell'unità o per il primo maggio ma anche e soprattutto ai manifesti per la rinascente per il borzalino per i suoi clienti normali cioè per quelli che vengono sulle merce che dovevano comunicare con una comunità che si doveva in qualche modo raggruppare stiamo parlando degli anni 50 anni 60 intorno a delle idee gli strumenti dei modi di essere poesi precisi ecco questo è un esempio di grande grafico di impostazione sociale perché in qualche modo lavora in qualsiasi momento e qui rispondo anche la domanda di prima in qualche misura al bestate non si è mai sognato di dire che la rinascente visto che la fanno non ci si lavora ci mancherebbe altro lui ha sempre fatto una cosa e l'altra con la massima disinvoltura ma anche dal suo il suo modo di pensare alla grafica e nel momento in cui parlava di politica il suo modo e quello dei suoi comitenti di parlare di politica tutto in sidero può essere ancora oggi giudicato una specie di prototipo dell'operatore culturale grafico lui intendeva il suo ruolo come quello di un redattore grafico non solamente come come il grafico lui affesce una grande rivista per Reinaudi insieme a Elio Vittorini insieme a Elio Politecnico ecco lì il grafico era seduto al tavolo della concertazione grafica e della concertazione della rivista insieme al direttore della rivista quindi era qualcuno per cui il fare grafico in un certo modo comunicava delle idee che andavano a convergere con quelle della convintenza che era Reinaudi e della direzione che era Reinaudi ecco in questo modo adesso nel momento in cui si arriva al fatto che io faccio la grafica e la capisco solo io evidentemente tutto ciò passa su un altro piano secondo me passa sul piano semplicemente dell'espressione artistica quindi è un piano totalmente diverso la grafica è qualche cosa che comunque ha bisogno di un codice di riferimento a cui una comunità non dico assoluta sufficientemente ampia si possa riferire altrimenti diventa un vernago ce la cantiamo e ce la soliamo tra di noi però mi dispiace questo discorso che non si può fare senza immagini noi per esempio in una delle nostre più recenti lezioni abbiamo trattato il caso di Massimo Dolcini da posto di pubblico utilitario e di linguaggio e comunicazione proprio come dire rivolta a un pubblico allargato un pubblico insomma non elitario loro hanno queste immagini in test e tu lo conosci il progetto benissimo per cui allora il progetto di Massimo Dolcini del comune di Pesaro era un progetto semplicissimo all'origine cioè pensare a una piccola città non può competere con le grandi agenzie di pubblicità può fare delle cose piccole per una comunità piccola allora il problema dell'amministrazione è far sì che i cittadini i cittadini amministrati abbiano un contatto continuo con l'amministrazione questo sto parlando dai primi anni 70 Gianfranco Mariotti assessore della cultura e Massimo Dolcini grafico all'epoca giovanissimo pensare a questa cosa noi facciamo possiamo fare un manifesto la settimana ogni 10 giorni ogni 15 ogni ora continuamente che faccia un filo tra l'amministrazione e la e la cittadinanza la cittadinanza è una cittadinanza che cammina che si muove che sta nelle piazze ancora una comunità del tipo della vecchia comunità cittadina non la comunità che fa in macchina delle manifesti solo nelle outdoors quindi ci si può fermare al legge si crea un tipo di comunicazione che sia fortemente vernacolare ma fortemente vernacolare in questo senso all'opposto perché è il più ampio possibile tutta la comunità che viene investita a questa comunicazione il tema il tema della della comunicazione stessa è in qualche modo secondario non ha nessuna importanza che si dia nel manifesto di questa settimana se c'è un convegno se si aprono gli asili nido se si danno gli orti a vecchietti se qualsiasi cosa viene detta in quei manifesti che avete visto recentemente è del tutto irrilevante di per sé la cosa importante è che comunque sia il filo che questa settimana mi tiene legato all'amministrazione con una sorta di trucchi tecnici anche divertenti e interessanti mi ricordo un manifesto che diceva che c'erano i pap test per esempio o un test comunque di natura femminile che veniva mandata le informazioni alle cittadine per fare questo test e la caricatura che mandava questa foto era la caricatura del medico provinciale quindi una figura che in una piccola città si sa chi è gli si dà un volto è qualcuno che ti comunica direttamente una cosa che quindi in qualche modo è complice di questa informazione c'era un altro manifesto in cui c'erano dei corsi di ginnastica per anziani in cui un anziano che sta facendo delle aprioli insomma molto acere aveva la faccia di Gianfranco Mariotti cioè il suo assessore ovviamente sono tutte delle ammicamenti tra grafico amministrazione e cittadino che il cittadino di quel momento era in grado di potere io 35 anni dopo e non conoscendo io pensavo se non lo sapessi questa cosa non potrei mai analizzarla ecco però in quel caso lì l'idea di fondo era che la città l'istituzione cittadina si legasse strettamente al filo molto molto intrecciato con i propri amministrati dando continuamente delle informazioni questa era una strategia che preesisteva ben di più al singolo artefatto se l'artefatto poteva essere brutto non aveva nessuna importanza era però che ci doveva essere perché era il momento in cui strategicamente poteva era utile ecco in questo caso il vernacolo diventava un fortissimo modo di intervento politico questa era stata la più grossa importanza del massimo Dolcini Dolcini era molto più bravo graficamente di quello che si vede nei manifesti cioè era molto più braffinato con me era paradossalmente una cosa forse Omar por capire bene Dolcini era uno dei pochissimi grafici italiani che io ho visto che faceva di sketchbook cioè non faceva le fotografie come si fa di solifaccio fotografie non ho una cultura sappiamo qualcosa di sketchbook no? no non lo so perché sapete voi però un'opera vuol dire lo sketchbook perché te comunque hai una versante anche uno sassone e di portarlo all'esatto però in Italia la cultura dello sketchbook non è mai stata praticata o perlomeno mai a livello di massa come nel mondo anglosassone tutti i grandi grafici inglesi e americani disegno tutti cioè fanno io vanno in giro e fanno lo schizzo di questa facciata della tua faccia di Gianni che si tiene la bocca con la mia conoscenza di grafici italiani che io ho conosciuto è l'unico che ho visto fare questo processo quindi poi in realtà lui era meno interessato a questa sua abilità era più interessato al discorso politico molte volte lui è una cosa singolarissima che a me personalmente noi abbiamo fatto molti convegni insieme o conferenze lui diceva non so se è vero ma penso di sì lui prendeva le ultime 20 diapositive che aveva in studio perché il suo discorso al discorso generale non è importante perché faceva vedere cioè non esprimeva i singoli artefatti uno per uno secondo una logica del singolo oggetto come facciamo anche noi generali ecco lui prendeva questa roba abbastanza eterogenea una del 70 una del 92 una delle 85 una dove si parlava di Majakowski quell'altra si parlava delle tossiodipendenze a Pensa e faceva vederle però facevano un discorso che legava tutto nel discorso generale erano semplicemente quelli delle cosine tanto per fare delle figurine come si diceva ecco questo era abbastanza strano rispetto al nostro al nostro questo era però davvero una forte strategia di intervento grafico che non è una cosa male perché da avere tutto sommato io mi sono sempre piccato di una cosa in cui mi fa riflettere se ne avete voglia quando qualcuno vi chiede voi fate una cosa un lavoretto qualsiasi ci sarà sicuramente qualcuno che vi chiede perché noi fate ecco se voi sapete rispondere a questa domanda siete già su una strada buona o da se avete sbagliato molto avete fatto una porcherina non ci abbiate capito niente però sapete perché l'avete fatto sapete qual è il percorso del vostro pensiero questo è il mio personale valutazione quando uno non sa perché fa una cosa o perché è bellissimo beh mi garbava oppure mi andava e oppure mi piace così ecco quando uno non sa far fugle delle cose perché non va bene chiaro perché quale processo di pensiero ha attivato molto spesso ha acceso photoshop e ha trovato una funzione qualsiasi e su quella ha costruito un'ipotesi grafica però non è questo in realtà qualsiasi strumento tecnico dal laptop al computer viene attivato dal pensiero il vostro pensiero è quello è lo strumento allora la prima cosa da affinare è ovviamente la vostra capacità di riflessione progettuale nel momento la vostra capacità di riflessione progettuale è in qualche modo consapevole voi sapete perché fate una cosa ed è un meccanismo lo accorgerete poi se io mi auguro che voi facciate questo mestiere o che facciate un simile che lo facciate molto bene e per molti anni arriverete a un punto di professionalità per cui fate una cosa automaticamente dopo di che quando qualcuno vi viene perché si raccontate perché l'avete fatto perché diventa un metodo in qualche modo interiorizzato non è qualche cosa perché uno si mette al tavolo e pensa come lo deve fare a un certo punto diventa una specie di riflesso automatico c'era lì sullo schermo una vignetta di Valo che è la vignetta di Elie del manifesto ecco se voi vi sarete sempre chiesti o almeno spesso ma come cavolo fa Altan Forattini e Valo a fare una vignetta al giorno come fa? beh è il suo mestiere non le fa automaticamente non ha nessun bisogno può fare 10 non ha bisogno di sapere perché sa come si fa ha interiorizzato il metodo ecco questo dovete secondo me in qualche modo arrivarci con ciò ci arriverete per processo naturale non ci arrivate domattina però la formazione della vostra coscienza di grafica diciamo di coscienza professionale è qualche cosa che a un certo punto vi farà maturare questo atteggiamento moltissimo bene io direi che di ringraziare con un bel applauso a lei per tutte le bellissime storie ma soprattutto per averci cumulato averci stimolato con argomenti veramente importanti grazie ancora procedura alla prossima ciò presentate rupti molti nell'airo erano сколько alla prossima me vi